La situazione di degrado qui in via giustizia a Mestre è sempre peggio, non accenna a migliorare nonostante i tanti appelli, ma il titolare della carrozzeria moderna Paolo Favaretto non si arrende e ha deciso di organizzare un presidio insieme ai suoi dipendenti per lanciare ancora una volta un messaggio. All'indomani dell'ennesimo episodio di fronte alla sua carrozzeria ha dunque deciso di radunare chi ogni giorno si scontra con questa situazione proprio di fronte al servizio del comune dove quotidianamente si recano tossicodipendenti e non solo. C'è un sacco di gente che dorme per strada e non è giusto questo, anche per le persone c'è una dignità. Adesso sono stato, ho parlato con gli operatori sociali dentro, loro chiedono più spazio dentro per farli dormire dentro, che è anche giusto perché se sono dentro noi li vediamo arrivare ma non è che vediamo sti qua che si fanno. C'è una stanza con otto letti ma qua ci vogliono cinque o sei stanze, il posto c'è, io chiedo al sindaco Brugnaro e l'amministrazione e la giunta di fare qualcosa ma non farlo fra due anni, farlo adesso. La situazione raccontano, gli altri è diventata insostenibile, come documentano le immagini? Si mettono qui dalla mattina alla sera e anche i miei clienti praticamente hanno paura a entrare, a uscire mi chiedono chi sono, cosa fanno, poi fanno baruffa, gridano, si mettono le mani addosso, arrivano le forze dell'ordine ma fanno poco, beh poco fanno perché una volta andati via loro prendono da capo ecco. Passano tutte le mattine tantissimi ragazzi per andare a scuola o anche gente che prende il treno che c'è qui alla stazione per andare a lavorare. Da un anno che io vengo qua a Messe che lavoro tramite questa carrozzeria, alle prime volte ero rimasto un po' diciamo scioccato da quello che vedevo, mi hanno detto che ci farai l'abitudine ma io l'abitudine non me la faccio e non mi piace vedere questa situazione, assolutamente non mi piace perché è un degrado giorno per giorno sempre di più. Favaretto che in pochi anni ha subito ben 37 furti e atti vandalici alla sua carrozzeria ha dovuto anche posizionare delle transenne davanti al negozio ma non è sufficiente e aggiunge nonostante i numerosi appelli anche al governo oltre un incontro con l'amministrazione nulla è stato fatto. Questione telecamere? Abbiamo le telecamere, vedi tutto, noi filmiamo tutto, sappiamo quante volte passano i vigili per la strada, quante volte passano la polizia, se passano tutte le volte che dicono sarebbe una cosa importante ma però purtroppo anche qualche settimana non passa nessuno. Io chiedo un presidio fisso delle forze dell'ordine perché per risolvere qua ci vuole un presidio fisso, è l'unico sistema per risolvere via giustizia. Come stanno facendo in via Piave, siamo diventati il peggio di via Piave ma paghiamo che noi le tasse. Ma quando un cittadino fa un appello una volte, due, tre, ma qualcosa lo devi fare, ma qua è dieci anni che facciamo gli appelli, ma non sono io solo, siamo in 150 e nessuno fa niente. Grazie. 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 Grazie.